Ciao ragazzi e ragazzi, ecco per voi delle anticipazioni che riguardano C'è posta per te. La prima puntata andrà in onda l'11 gennaio. Stessa ora e stessa rete. E non immaginate il super ospite della puntata. Jean Yaman, della Soap Turca Bittersweet Ingredienti d'amore. Sarà nello studio di Maria De Filippi. La sua entrata e scena scatena l'euforia di tutto il pubblico femminile. Maria ha annunciato la presenza dell'attore con un video di presentazione. Il nostro Ferit indossa una camicia bianca, pantaloni neri e stivali marroni. Capelli raccolti con un codino e barba. In scena entra anche una scatola rossa contenente un libro di legge. Visto che lui è l'areato proprio in questa materia. Poi Maria tira fuori un biberon. E racconta come da piccolo lui abbia buttato il biberon a terra e rompendosi tutti i dentini. Tira fuori dalla scatola anche una macchina fotografica per annunciare la sua nuova Soap, dove lui interpreta proprio un fotografo. Ma ecco il momento che molti aspettano. Nella scatola c'è pure un anello. Ma alla domanda di Maria se è fidanzato, Jan sorride e non ammette di essere fidanzato, anche se ci sono molti rumors riguardanti la sua relazione con Demet, la sua nuova patiner nella Soap. Che dire ragazzi, non vedo l'ora di vedere la puntata. Comunque ormai manca poco alla messa in onda. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye! Grazie a tutti!